Entro a casa vostra anche a Capodanno Buongiorno e buon 2017 Auguri, auguri a tutti Che sia un anno ricco di felicità, gioia, prosperità Colore, calore, amore Insomma, che sia un anno come lo desiderate voi Pieno delle cose che più desiderate Che sia un anno pieno di soddisfazione Pieno di curiosità, pieno di creatività Pieno di colore Che sia un anno bello Che sia un anno che possiamo trascorrere insieme In allegria, spensieratezza e soprattutto in armonia Grazie, in questi anni mi avete riempito la vita E adesso ci accingiamo ad un nuovo anno insieme Sono contenta Quest'anno ho grandi progetti per il canale E quindi voglio presto condividere con voi tutte le mie idee Non vedo l'ora di mettermi sul piano da lavoro Per concretizzarle Ogni anno facciamo tantissime cose insieme Forse voi non ve ne rendete conto Ma io me ne rendo conto dagli armadi In cui accumulo tutti i lavori di Arte per te E poi ogni anno faccio lo scatolone Arte per te 2016 Ho appena fatto Ed era pieno zeppo di cose che abbiamo fatto insieme È bellissimo vedere come da un pensiero Possa nascere un'idea E come quell'idea possa veicolare attraverso questa semplice videocamera All'interno delle vostre menti Poi nelle vostre case Poi tra i vostri parenti quando li regalate Di questo io vi ringrazio Perché espandete la mia presenza in questo mondo Tramite questo semplice mezzo che è Youtube Che voi avete fatto diventare il mio eco Il mio modo di esprimermi liberamente a 360 gradi Quindi grazie Io spero che questo angolo sia anche per voi nel 2017 Un angolo libero, felice e creativo In cui vi sentiate liberi di esprimere al 100% la vostra creatività Io cercherò di variare moltissimo l'argomentazione dei video di Arte per te Molto spesso mi chiedete Ma perché metti tanta carne al fuoco? Proprio per accontentare tutti Ora torneranno i video seri Ma non abbandonerò mai i lavoretti Torneranno i video di disegno, di acquarello, di pittura, di iconografia I video di calligrafia Concludiamo questo corso molto velocemente Perché è tutto girato Solo che o ne metto uno online o ne metto un altro Quindi non vi preoccupate Adesso ritornano tutti gli argomenti che più vi piacciono E torno io con la mia logorrea A tormentarvi due volte la settimana Ma ritorno anche sugli altri due canali Ombretta e Due Cuori Una K Che stanno andando benissimo Motivo per cui vi ringrazio tantissimo Per Due Cuori Una K Vi ringrazia anche Gabriele Che è felicissimo di come lo avete accolto nelle vostre vite Ma ve lo diremo di là Per chi non fosse ancora iscritto Due Cuori Una K è un simpaticissimo canale di cucina Mentre Ombretta è un canale di beauty, lifestyle Quindi ragazzi Un altro anno insieme sta per cominciare su Youtube Che sia un buon anno per tutti Ricco di soddisfazioni e felicità Ma soprattutto ricco di salute e di voglia di fare Noi ci vediamo sempre qua Auguri a voi Auguri ai vostri piccoli e ai vostri nonni Auguri a tutte le vostre famiglie Tolgo il disturbo Ci vediamo per il prossimo video Sempre qui e molto presto Da Ombretta e da arte per te Tutto Buon anno Ciao Ciao Mua